Yo! 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 Yo Kai Watch O meglio, dal inizio del quarto capitolo in poi O meglio, le password e i download da internet Quindi, andando all'ufficio postale Agnellino Possiamo inserire delle password La prima password, per ora, che vi farò vedere Sarà una in particolare che serve a prendere uno Yo! Kai speciale Nel mio Let's Play normale, diciamo Ho fatto diversi soft reset Che sarebbero, che significa resettare il gioco meglio Spegnerlo, senza però spegnere la console L'ho fatto diverse volte senza successo Ma ora, vediamo se riesco a farlo qui Quindi, vediamo un po' che codice bisogna mettere La password è splendente Ve la faccio vedere sullo schermo Perché comunque sia lo schermo inferiore Per comodità non lo riprendo Eccolo qua, la password è corretta Ci dà una moneta scintillante A questo punto, andiamo a mettere questa moneta scintillante Nella slot Kai Ora, potevo anche prendere le altre monete Che si prendono facendo il download da internet Si riceve una moneta con raffigurato Whisper Una moneta a 5 stelle Che è molto utile per prendere certi yokai E inoltre si prendono diverse monete colorate Ora, in questo video non l'ho fatto vedere Ma ve lo dico a voce Così ce lo sapete Se volete fate il download da internet E ricevete queste monete particolari Dunque, andiamo al Monte Selvoscura Per cercare di prendere Arachnia Sarebbe, diciamo, la controparte di Arachnus Il boss, diciamo, di Spiritossi Ma vediamo se ci riesco Allora, eccoci qua Faccio un salvataggio veloce Così almeno evito Così almeno posso soft resettare Nel caso non capita Arachnia Perché, ripeto Potrebbe non capitare Arachnia a primo colpo Vediamo un po' Senza perdere tempo Potrebbe No Domes Gecko O Gecko Praticamente può anche capitare La controparte di Raga Batrax Ah Ah, Domes Gecko Cattivo Ah, ok, allora Vediamo se riesco anche a prendere Arachnia Accidenti Io in Yoke Watch O meglio, la partita principale Che sto portando di video Praticamente Mi è capitato Lucenio Ma ho soft resettato 6-7 volte E mi è sempre capitato lui Facciamo così Provo a prendere Arachnia Io questa cosa l'ho scoperta Grazie al Nintendo Direct Di questo codice Perché se no Mi toccava Andare a scavare In varie pagine di internet Per trovare i codici Non c'avevo voglia Ho scoperto Guardando in Nintendo Direct Questo codice Purtroppo l'ho scoperto Praticamente una volta Ho finito il gioco Altrimenti Lo prendevo subito E via Si andava A comandare Insieme a Arachnia O Domesgeco O anche Lucenio Potevo prendere prima Lucenio mi piace Perché uso la spada Proviamo un po' A prendere Arachnia Se esce Vediamo un po' No Domesgeco Potrebbe Stavo pensando Anche dipendere Dal Dal giorno Dall'ora Il momento in cui ci vai A che punto Sei della storia Magari Potrebbe anche Dipendere da questo Lo faccio altre 5 volte E poi vediamo Se effettivamente Il problema È l'orario Non fate caso Al giorno e all'ora Che sono sballate Ripeto Se vi capita Qualcosa di diverso Da quello che vedete in video Non date la colpa a me Fate voi le prove Perché l'altra volta Ho fatto vedere Come prendere Dracunian E alcuni Mi sono lamentati Con me Dicendomi Eh ma Per colpa tua Adesso non potrò Prendere Dracunian Dico Che è successo Eh mi è uscito un altro Yokai Dico Guarda Mi è uscito questo Se non potevi prendere Dracunian Spegnevi il gioco Allora Qua continua a uscire Domesgeco Quindi che facciamo Per il momento Non la uso La userò in un altro Momento della giornata E vedo se Effettivamente dipende Dalla giornata Il fatto Dall'ora Voglio dire Dall'ora E dal momento In cui si va A prendere A usare la moneta A prendere questo tipo Particolare di Yokai Quindi Continuiamo ora Con la storia principale Bene Guji Per questo nuovo episodio Appunto Volevo proprio farvi vedere Come tornare Nello Yokai World Come arrivarci Dobbiamo parlare con Lucio Che è il figlio Del grande M Ovvero colui che controlla Le anime Buone Malvagie In Praticamente Tutti quanti Le anime Giapponesi Che trattano Dell'inferno E del paradiso Quindi Non vedo perché Spiegarvelo Comunque sia Ehi Andrea Come state tu E il tuo Yokai Ah Lucio Ne è passato di tempo Cosa ti porta qui C'è qualcosa di strano Qui attorno Così sono venuto A dare un'occhiata Ritorno Allo Yokai World Lucio Figlio di Emma E grande Qualcosa in mente Qualcosa di strano Beh di recente Ho avuto questi sogni Sogni in cui Gli Yokai Allo Yokai World Si battono Per qualcosa di perduto All'inizio Una piccola lotta Ma può diventare fretta Sempre più grande In genere Ci azzecchi Quando sogni E io Andrea Possiamo scambiare due parole Le questioni Dello Yokai World Sono pericolose Non dovremmo investigare Già buona idea Ma non sarebbe pericoloso Anche per te Oh non c'è problema Io ho lo Yokai Watch Ok Io aspetterò nel mondo normale Dimmi che scopri E fai attenzione Perfetto Torniamo allo Yokai World Per accedere allo Yokai World Ecco C'è la cutscene Appunto Bene Entriamo nello Yokai World Vediamo Dovrebbe essere qui Da qualche parte Bene Penso che Da ora in poi Non dovrebbero esserci Più problemi Se vogliamo tornare Nello Yokai World Trovato Lucio Poi cosa dobbiamo fare Ho qui la chiave Diventa un ascensore E c'è Insomni Che ci fa da Da Come si chiama Quello Che trovo Negli ascensori Benvenuti Nell'ascensore Per lo Yokai World Insomnia Io la chiamo Insomni Perché sono stupido E' passato Molto tempo Sono un po' nervoso Di tornare laggiù Ma Whisper In realtà Dovrebbe essere Un fantasma C'è Proprio Il classico Fantasma Neanche uno Yokai O meglio Yokai è spirito Ma Entità malvagia Veramente Più Uno spirito malvagio Però Diciamo che Quelli fanno buoni Tra virgolette Anche se alcuni creano molti disastri Ma Whisper è il classico Fantasma Quindi non dovrebbe neanche Conoscere lo Yokai World Visto che E' morto Dentro Quella capsula In cui è stato rinchiuso Da cui poi Noi l'abbiamo liberato Cioè è morto Perché è stato imprigiato Lì dentro Per 200 anni Almeno da quello che Da quello che ci dice lui Ti servirà anche questa Una chiave per l'ascensore Dello Yokai World Ma allora Insomnia Come ci è arrivata Quassù Non tutti la possono usare Ma tu non dovresti avere problemi Grazie Lucio Bene Whisper Andiamo Questo è un altro buco di trama Ma io sinceramente Mi faccio le domande Ma poi non è che cerco Per forza Una risposta Giusto Mi piace solo farmele Per capire Quanto Quanti buchi di trama Possono fare Quando troppe persone Lavorano Allo sviluppo di un gioco Mi dispiace Ma è così Oddio Gli occhi Che ti controllano Lì Mi danno un fastidio Dunque Se Emma Il grande Ah eh Ecco Non mi ricordavo In gambe Era Oh mio dio Quella è Una fusione Che Con Baku Anirika Onirika Anirika Mamma mia Lo Yokai World È magnifico Quanti sogni Che io ti mostro Fai pure come se Fossi a casa tua Quella era l'idea Goriti Le vacanze estive Ma non è vero Oh mio dio Capitavere Capitavere Alt Puoi chiamarmi Capitavere Perché questi nuovi Non rendono giustizia Io sono il più grande Campione di questo mondo Spiega perché Stai sconfinando Nelle terre Yokai umano Allora La prima cosa Tu vedi un umano In un mondo Yokai La prima cosa Che ti chiedi È perché sei qui Non come Sei fatto ad arrivare Perché Sei qui Per impedire Gli Yokai Di combattersi Null'altro Un conflitto Gli Yokai Fermato Da un umano Sarebbe davvero interessante Come hai detto tu Due schieramenti Rivali sono in lotta Se vuoi davvero Puoi raffinare Tutto ciò Continua lungo Questo sentiero Monte Bugiardo Via Andala Via Andala Via Andala E passo affamato Perché Andala Via Andala Mi sono perso Una V per strada Qui lì Qui lì i Yokai Vanno fermati Ti aspetterò Alla fine del sentiero La porta grande Allora C'è una cosa Che ti spiego Piccolino Se io facessi Tutta quanta Questa strada di corsa Nessuno Yokai Potrebbe fermarmi Dannazione Allora Non dovrei avere bisogno Di ricaricare gli Yokai No non ce l'ho Monte Bugiardo Quindi gli Yokai Vanno fermati Fallo il tuo obiettivo Ti verrà chiaro Ah Devo fermarli per forza Accidenti Devo fermarli per forza Eccomi Sono qui Nel primo mondo Wow Gli spiriti Allora Dov'è il primo Trovarlo Cioè Devo combattere Contro tutti Cosa devo fare Ah no Eccolo Sta lì Eh Come ci arrivo lì Non Aspetta Devo fare il giro di qua Eccomi Arrivo Caro Proprio Non riesce a capire Quello appartiene Da sempre Agli spiritossi Conte Zapula Oddio Quanta La level 5 italiana No Sciocco Interstellare Quello E delle polpani Senza dubbio Quello In rosso E voi due Calmiamoci E parliamone Bel tentativo Anche tu Lo vuoi Vero Sì Non l'avrai Quello Spetta gli spiritossi Già mai Alle polpani Sempre Ti darò una lezione Grazie Quello che volevo Era proprio Battermi con voi Vabbè Leoforte Diamoci da fare Dai Spero Diano un po' Di punti Almeno Salgo Di livello Ma Insomma Niente di che Basterà Gibanian Certo Dopo quello Che ha fatto Lofort Ovviamente Siamo Siamo precisi No Penzola Allora Eccolo Eccolo il punto Debole Dov'è C'entra proprio Bene E uno Schiattato Bravissimo Gibanian Fate fuori anche L'ultimo UFO Là Come si chiama Bravissimo Lucio Lucenio Perché Lucio Lucio è il figlio Di Emma E 592 punti Solamente Che cagata E dai Così pochi Ho vinto No aspetta È il contrario Non me ne scorderò Umano Ciao Chissà Per che cosa Stavano combattendo Fantastico Non posso credere Che lo abbiamo Che lo abbiano Anche qui Nello Yoke World Ah Non mi hai dato Saperlo Che bello Vabbè Andiamo a fermare Anche gli altri Va Bene Mi sono praticamente Buttato Dalla ringhiera Che avevo Davanti La prima che ho trovato E sono atterrato Praticamente Nel punto preciso Che mi serviva Per fare la missione Fantastico Volto vuoto Praticamente Quello che Rappresenta Un papale papale Quello L'ho visto prima io Quindi è proprietà Degli spiritossi No Quello Ciclopino Che carino No Quello l'ho visto prima di te È proprietà Delle polpanime Questi due Che stanno litigando Meglio fare coraggiosi E calmarli un po' E tu chi sei Non è che lo stai tenendo Anche tu d'occhio Se C'è Uno che mi dice Uno senza faccia Mi dice D'occhio Wow Lo slender Non è per niente Ripreso da quella Famosa Favola 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 È una parola grossa Da quella famosa Leggenda Giapponese Dell'uomo Senza volto Quante botte Ci ha preso Jetnan Poverino Non è che faccia Grandi danni Ma È molto buono In difesa Molto più di Bucinian Molto Vai Malonian Ho imparato A pronunciarlo Eh Ah Fortini Gli amichetti Eh Bene Allora Mo ci pensa Fui muro Fui muro È molto forte Accidenti L'ho voluto Detenere squadra Per provarlo E Mi si è rivelato Molto utile Quanti punti Vitel Ci hanno Ancora Questi Oh Ok Volto È andato Ciclopino Ciao Ciclopino Quanto ti rimane Ciao Fatto anche lui Bene Bene Si va alla grande Ora l'ultima cosa Che mi rimane da fare È trovare l'uscita Da questo posto E andare Appunto A Passo Vandalo Viale Vandalo Come si chiama Per tutte le informazioni È una ritirata tattica Non sto scappando Non mi sto arrendendo Sto solo cambiando obiettivo Bene Praticamente Quello che c'è da fare A Yoke World Non è che sia poi Chi sa Quale Mistero Mi aspettavo qualcosa di più Ma Non c'è bisogno Che io Avessi delle aspettative Troppo alte Ok Allora Mi rimane solo Una cosa Per vostre informazioni Mi sono buttato Da qui La prima rotta Che ho trovato Ok Quindi ora lo sapete Eccolo qua Via Vandala Via Le Vandalo L'occhio Gli ho cambiato nome 3-4 volte In genere Gli Yokei scappano Quando mi vedono Invece questo qui Mi rincorre Maledetto Quante diramazioni Non sarà facile Trovarlo Ci vorrà un po' di tempo Vediamo un po' Ah E' più grande Di quanto mi ricordassi Via Vandala Accidenti Ah eccolo qua Bene Mi state litigando Per quella cosa Facin Wow E' ovvio Che quello Appartiene D'ormai Appartiene Agli spiritosi Poi al pane Parliamone Stai dicendo Che quello E' tuo Sì Ecco Combattiamo Cioè Non mi aspettavo Altro Quindi va bene Pure Vediamo un po' Come sto messo Con Luceno E sto a carico Bene Allora Sinceramente Come stavo Dicendo Prima Non mi rispia Affatto Di aver trovato Lucenio Mi piacciono I tipi Che usano le spade Non capisco Una cosa Insommia E' uno yukai Che non ti fa Dormire No Ok Poi c'è Baku Che ti fa Dormire E qui c'è Dormai Che non ti fa Dormire Quindi mi chiedo Perché due yukai Che non ti fanno Dormire Uno Non era sufficiente Perfetto E' andata anche questa Stanotte non dormirò A pensiero di come Vendicarmi Bene Mi fa piacere Se ne sono andati In verità c'era Da aspettarsi Che stessero litigando Per quello Ehi Whisper Che cos'è quello Oh cielo Non lo sai Voglio dire Quello è Quello è Quel che è Chissà se è troppo tardi Per mettere un annuncio Per un nuovo Valletta yukai Ah comunque Abbiamo fermato Questi tre litigi Facciamo rapporto Capitavere Ma che sta succedendo Non lo so Ed è quello Che intendo scoprire Andando da Capitavere Con quel nome E tutto un programma Ok eccoci qua Avete più laccato Quei tre litigi Ben fatto Potete passare Oltre questo punto Soprata questa soglia Due generali Si fronteggiano A capo delle battaglie Preparatevi A dovere Prima di accettare Questa sfida Oh Perfetto Allora Bene Direi di andare Ad affrontarli Allora Sono rimasti Solo loro due No Non sono quelli Wow Cosa c'è qui Wow Un quiz cartello Non lo so Chi sia Ad ogni modo Qua non c'è nessuno Posso salire Peccato Vabbè Parliamo con questi due I capi Sforbi fuoco E equilancere Insomma Vogliono Quello Io non so cosa sia Ma sinceramente Spero che dopo questa storia Voi salti fuori Cos'è Perché ne ho le palle Piene Scusatemi Francesismo Ma è la verità E dai Eccola là Ti pareva Ti pareva Io odio Dover tracciare Segni Perché non sono Precisi È dai tempi Del DS Che mi lamento Per questa cosa Però la Nintendo Non è che lo migliora No Lo lascio uguale Purtroppo C'è Da quando Gioco Il touchscreen Del DS Che sia 3 2 1 Quello che è È sempre Uguale Non è mai cambiato Faccia dell'ospedito Sushi E pesta in missione Ok Sei proprio forte Ho perso Non posso negarlo Penso di non poter fare altro Che darti questo Incredibile Lo faresti davvero E aspettate un attimo Si può sapere Che cos'è Quello a fare Cosa Non sai cos'è questo Capirai tra un attimo Prendilo e vedrai Che bellezza Ha citato Yotobi Questo panel curry È sublime Uno squisito Tesoro Per i salsi C'è una fila di tre ore Davanti al panificio Fantasico Grazie mille Davvero Non riesco a crederci Ora dovremmo andare A trovare Capitavere Stai bene Whisper Sembri strano Salve Ah Ce l'avete fatta Sì Hai ragione Tutto il besticcio Era semplicemente Il panel curry Già Oh Lo sapevi già Aspetta Perché non ci hai detto subito Ehi Calm Ti whisper Ah Non c'è bisogno Di rabbarsi Era solo una prova Per le tue capacità Non temerlo Yotobi Guarda in pace Nonostante tutto Quel panel curry Però le tue azioni Hanno fatto capire Quanto tu Tenga di Yotai E questo è il tipo Di padrone Che posso servire Ma forse Corro troppo Ah Puoi chiamarmi Capitavere Il più grande Campione di questo mondo Servo solo Coloro che hanno Uno spirito gentile E tu possiedi tale dote Un giorno Mi mostrerai Anche le tue capacità Di guerriero Bene Quindi posso Anche recutarlo Vuol dire Incredibile Già Whisper Incredibile Davvero Bene Molti punti Molti punti Buono Vediamo un po' La scena bonus E vai Super Super Non è da verde Buono Questo è quanto? Ehi là Ok Ah Posso affrontarlo Subito Bene Allora Lo affronto Subito Andiamo Whisper Affrontiamolo Cioè Whisper Io e gli altri Yokai Tu guarda Perfetto Vieni a batterti Ok Ti farò il culetto Nero Aspetta Quale cibo gli piace Magari ce l'ho Verdure Andiamo un po' Ho un cetriolo Sì Lo ama Vai Leoforte Pensaci tu La maleolina E' andata No Gli manca Un ultimo colpo Accidenti Mi ha fatto Un attimo Preoccupare Ma Niente lì Che i punti Eccellente La forza è palese Maestro Adatto a te Non posso Decidere una cosa Così importante Basandomi su una battaglia Magari vengo La prossima volta Ok Posso riaffrontarti subito Devo aspettare un giorno Ah Devo aspettare un giorno Ok però Dunque Kuge Direi che per questo video È tutto Come avete visto Per reclutare appunto Capitavere Bisogna Per forza Dargli da mangiare verdure In modo che diventi Nostro amico Più facilmente Non è per forza Però più facilmente Ok Quindi magari In un prossimo video Lo recluto Quindi Per questo video È tutto Spero vi sia piaciuto Nel prossimo Ehm Boh Dovrei forse Cominciare L'inferno infinito Ma Non so se lo incomincerò Nel prossimo Perché Sì Probabilmente Nel prossimo Forse sblocco Il tunnel infinito O il paradiso divino Non lo so Fatto sta Che qualcosa Porto Ok Qualcosa lo porto Sicuro Ah ma Dobbiamo parlare Con Lucio Sebbene Andrea Non è ferito Qualcosa del genere Vero sto bene Il motivo di litigio Non era niente di serio In realtà Beh buono sapersi Se hai troppo da fare Capisco Ma ho un favore Da chiederti Mi aiuteresti A indagare? Ok Qual è il problema? Ho fatto questo sogno Nel profondo Della terra C'era questa sostanza Nera che ribolliva Naoseante Continuavo a ritornarci Alla fine Quella merma Mi dava un tesoro Poi lo portava Da un enorme specchio In un campo E ci rompevo Un sigillo Che potrebbe causare Un sogno simile? Un enorme specchio In un campo E lo specchio Guardiano Di Piana Ciabatta Oh Il tunnel Infinito Ecco come Aspetta Potrebbe essere Questo il modo Per aprire Il tunnel Infinito? Vabbè Lo scopriremo Nel prossimo episodio Bye bye Cooch 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 Cooch